Ciao a tutti! Ciao! Io sono Giuliano, io sono Lorenzo e... perché stiamo facendo questo video? Stiamo facendo questo video perché abbiamo... un'idea, un'idea, un progetto, se vogliamo chiamarlo così, e abbiamo appunto deciso di parlarvi in breve di questo sogno che abbiamo tutti e due e vorremmo realizzare questo progetto e per realizzarlo abbiamo bisogno del vostro aiuto, quindi adesso vi andiamo a parlare in breve di che cosa si tratta esattamente quello che vogliamo fare. La nostra idea parte dal presupposto che a entrambi ci piace la vita nella natura, ok? Quindi uno stile di vita più naturale possibile e abbiamo pensato di voler costituire un'associazione da codice civile per la riqualificazione del Borgo di Padroianni che è praticamente una frazione del comune di Conserviano che si trova esattamente sul sul Monte Latenano che sta vicino il Lago del Salto al confine tra il Lazio e l'Abruzzo, centro Italia proprio quindi. Possediamo un agro di terreno di cui 765 metri quadrati di orto e il restante si tratta di macchia boschiva e noccioleto. Poi, essendo tu il proprietario di casa, poi abbiamo una casa su due livelli di 100 metri quadri con una cantina di 30 metri quadri da trasformare in dormitorio, una stalla da ristrutturare completamente, da trasformare in la parte diciamo sotto perché su due piani, la parte sotto come diciamo convipio con un piccolo angolo bar, la parte sopra invece ci ricaveremo quattro stanze per l'accoglimento insomma di ospiti che vengono a trovarci. Ah sì, poi annessa alla stalla ci stanno più o meno 450 metri di terra, insomma. Quello che vogliamo fare è un'associazione codice civile, che cosa vuol dire? È un genere di associazione molto libera che non fa parte del settore sportivo o delle associazioni del terzo settore, ma di fatto non limita appunto l'associazione a nessun tipo di settore e ci permette di operare con più libertà potendo svoggere attività riguardanti appunto gli eventi sportivi o culturali, commerciali, sociali, di diverso genere insomma. E questo genere di associazione che vogliamo costituire si basa su tre punti cardini fondamentali che sono l'autosufficienza alimentare, autosufficienza energetica e autosufficienza economica. Dal punto di vista dell'autosufficienza alimentare puntiamo molto sulla realizzazione di un orto sinergico con l'aiuto di esperti del settore per quanto riguarda la coltivazione sinergica e biodinamica. Poi per quanto riguarda invece l'autosufficienza energetica, la realizzazione, dillo tu, la realizzazione di una cellula ibrida fotovoltaica eolica di nostra progettazione, poi utilizzando anche forno a legna termoforno e termostufe per la realizzazione di acqua calda e pannelli solari. Poi l'autosufficienza economica per mantenere presente le infrastrutture macchinari attive e funzionali avremo bisogno di autofinanziamenti di tipo sociale, culturale, sportivo tramite la realizzazione di eventi, fieri, raccolte fondi, workshop, campagne di sensibilizzazione, corsi pratici di vario genere. Un'altra cosa in cui stiamo leggendo i fogli che abbiamo scritto, tutte le cose che abbiamo in mente. Un'altra cosa di cui crediamo fermamente è che attraverso la realizzazione di questo progetto comunque sarà possibile sperimentare una vita comunitaria. Quindi cosa vuol dire? Creiamo un gruppo di persone che vivono insieme, che collaborano, che cooperano per la realizzazione di questo progetto. Quindi ognuno avrà un compito e tutte le persone che decideranno di partecipare in maniera attiva a questo progetto, tutti quelli che vogliono aiutarci, grazie a tutti quelli che vorranno aiutarci si creeranno le condizioni favorevoli per l'instaurazione di rapporti professionali, condivisione di conoscenze, competenze. La cosa che ci preme dire già da subito è che anche se questa è una realtà che fino ad adesso è solo su carta e non c'è niente di costituito da un punto di vista legislativo, esatto, siamo già comunque riusciti a metterci in contatto con persone che vorrebbero già aiutarci a mettere appunto delle fondamenta per creare questa struttura che comunque sono esperti del settore come... diversi ambiti, costruzione, palegnameria, carpenteria, elettricista, idraulica, meccanica, tutti i mestieri che servono per darci una mano con le cose molto pratiche, molto concrete che serviranno sia a punto di vista energetico, alimentare... Esatto, abbiamo già una piccola squadretta però se qualcun altro appunto poi ci vorrà dare una mano, di interesse al progetto siamo apertissimi al confronto di te. E un ultimo punto, non per importanza, pensiamo che sia importante appunto lo sviluppo di una società più armoniosa in accordo con la natura che ci ospita, quindi è fondamentale lo sviluppo dell'essere e della crescita personale tramite la coesione e la simbiosi uomo-natura, cioè quello che vogliamo fare è creare un ambiente dove ci sia armonia tra le persone che fanno parte del progetto e speriamo appunto nell'incontrare più belle persone possibili che abbiano il nostro stesso sogno, cioè quello di vivere in natura, di autoprodursi tutto quello che... Di cui abbiamo bisogno in sostanza. In conclusione, Prado Project e il progetto di cui stiamo parlando vuole creare un'alternativa socio-politica culturale valida al metodo tradizionale che stiamo vivendo in sostanza adesso, sia per quanto riguarda la convivenza civile che lo sfruttamento delle risorse il più ecologico e meno impattante possibile. Però senza scordarci comunque gli progressi... Siamo nel 2020 e quindi i progressi tecnologici ci possono sicuramente aiutare a trovare dei sistemi per fare le cose anche e soprattutto con meno fatica, lavorando a contatto con la terra e per lo sviluppo di tutta questa attività. Quindi se pensate che il progetto che vi abbiamo descritto vi possa interessare, scriveteci direttamente sulla nostra mail che è pratoproject.gmail.com e scriveteci se avete domande, potete lasciare un like a questo video, scrivere dei commenti e insomma siamo a vostra disposizione per qualsiasi tipo di curiosità o altre cose. Sì, in sostanza sì. Vogliamo dire altro? No, ma penso che per adesso è tutto almeno, penso che comunque ci sentiremo presto per per magari ecco pure informare tutti quanti dei vari mattoncini che stiamo mettendo sopra per creare insomma il nostro... Dai, creiamo un bel progetto, vi aspettiamo, ciao a tutti!